salve a tutti fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie del 5 di ottobre 2019 dio vi benedica sia lodato nostro signore gesù cristo sia fatta la sua santa e divina volontà l'ota e gloria a cristo nostro signore e ave maria come avete notato dalla miniatura e ovviamente dalla locandina abbiamo scritto naufragio fede e avviso qui l'avviso sarebbe l'avvertimento perché proprio in questi due messaggi che andremo a vedere quello di san bonico e quello di di anguera andremo a vedere che cosa dicono in questo caso di entrambi le parti del naufragio della fede e ovviamente dell'avviso iniziamo a vedere anguera 26 di settembre 2019 e dice questo cari figli il mio signore vi ama ritornate a lui che il vostro bene assoluto e vi conosce per nome non rimanete fermi quello che dovete fare non lasciatelo per il domani è ovvio che dice convertitevi poi continua c'è la conversione non si può aspettare domani fratelli sorelle è oggi che bisogna fare anche perché come vi dico sempre può essere che questa notte il signore ci chiama poi potrebbe essere troppo tardi e dice questo è il tempo opportuno per il vostro grande ritorno dite a tutti che non vengo dal cielo per scherzo cioè non è che la vergine maria scende dal cielo così per scherzare per prendere in giro nessuno cioè la vergine maria scende dal cielo per ordine di dio per avvisarci e per salvarci l'anima cioè questo quello che vuole fare e dice l'umanità si è allontanata dal creatore e i miei poveri figli camminano per un grande abisso spirituale datemi le vostre mani e io vi condurrò a mio figlio gesù tempi difficili verranno per gli uomini e le donne di fede già vediamo che sono tempi molto forti tempi confusionali tempi difficili da poterli da poter vivere come già sappiamo cari fratelli sorelle dove c'è una confusione che mette veramente paura una confusione spaventosa da in certi versi però fratelli sorelle è questo quello che è stato predetto e questo è quello che stiamo vivendo e dice avverrà un grande naufragio e molti si perderanno cioè arriverà quella famosa grande tribolazione quella famosa prova che la santa chiesa dovrà dovrà ovviamente affrontare e avverrà questo grande naufragio è un grande naufragio in riferimento alla fede cioè la fede non ci sarà più perché e molti si perderanno perché anche all'interno della santa chiesa purtroppo ci sono eresie eresie e peresie e dice soffro per quello che viene per voi e dice tre volte come a me giocori come a fatemi come da tutte le parti pregate 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 cioè se non c'è la preghiera con il cuore fratelli sorelle diventa difficile il tutto e dice la vostra vittoria nel signore avanti nella verità questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della santissima trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta io vi benedico nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen e rimanete nella pace quindi vedete che quello che dice la vergine maria d'anguera è quello che dice sempre in tante parti del mondo fratelli sorella ci avvissa proprio nel vero senso della parola ci sta dicendo guardate che la situazione attualmente è questa e dire che non è vero cari fratelli sorelle a parte un po' ce ne vuole per dire che non è vero ma c'è gente che dice che non è vero che sono tutte falsità che sono tutte diciamo situazioni non vere chiamatele come volete cari fratelli sorelle però guardate che questo è quello che si sta verificando attualmente però d'altronde dobbiamo bisogna pensare che questa è la situazione che si sta verificando ripeto giorno dopo giorno sì settimane dopo settimane e questo è quello che sta accadendo e fratelli sorelle c'è poco da essere tanto c'è poco da c'è poco da c'è poco da ridere cari fratelli sorelle ma c'è molto effettivamente da pensare e cercare di fare la volontà del signore e gesù cristo perché poi quello che conta è fare la sua santa volontà anche se molte persone questo non l'hanno capito e adesso andiamo a vedere l'altro messaggio ovviamente L'altro messaggio riguarda san bonico come vi dicevo prima che a san bonico la vergine maria del 28 settembre 2019 dice questo figlioli vi ringrazio tantissimo perché non vi dimenticate mai di me tanto vi ringrazio e vi prometto che vi asiderò sempre e verrò sempre vicino a voi tutti figlioli anche oggi vi chiedo preghiere sempre di più ve ne chiederò per arrivare sempre vicino al signore vi raccomando figlione non abbiate paura vi raccomando pregate sempre e amate tutti vi raccomando non abbiate paura di quello che succederà perché il signore sarà vostra salvezza figliolo cioè ci dice che non bisogna aver paura di quello che accadrà e sappiamo quello che accadrà secondo ovviamente le profezie mettiamoci quello incondizionale essendo presunti ma a me se non concesso che sia così già sappiamo più o meno quello che il signore ci fa vedere più o meno Nelle prossime Quello che potrebbe ovviamente accadere nelle prossime situazioni cari fratelli e sorelle la Vergine Maria in tante apparizioni ce lo sto dicendo ma che cosa dice adesso arriva il punto importante come vi ho promesso il grande segno sta per arrivare i figlioli in tutto il mondo questo grande segno se vi ricordate tempo fa quando leggevamo alcuni messaggi di San Bonico si pensavano che il segno che si doveva essere solamente via San Bonico no cari fratelli e sorelle il grande segno dice sta per arrivare i figlioli in tutto il mondo e come vi ho detto e annunciato quindi è una già una riconferma di quello che adesso andremo a leggere dice partirà di giovedì sera alle 20 e 30 cioè questo partirà di giovedì sera alle 20 e 30 non è che dice sarà giovedì prossimo o giovedì l'altro ancora ma dice partirà di giovedì sera alle 20 e 30 dice figlioli vi chiedo preghiere per tutti e non abbiate paura vi raccomando quindi di giovedì sera è un giovedì che e poi conclude prima che ritorniamo al giovedì dice vi benedico tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén questo giovedì sera fratelli e sorelle se andiamo a rivedere Garabandala dice si verificherà l'avvertimento e quindi l'avviso un giovedì santo alle ore 20 e 30 vedete rispecchia sempre questo quindi si fa riferimento a un giovedì santo che poi sarebbe ad un santo dell'eucaristia se non erro no legato alla santa eucaristia quindi ora non ha detto sarà quest'anno sarà il prossimo anno sarà tra due anni tra tre anni non lo dice dice che sarà un giovedì partirà giovedì sera alle 20 e 30 quindi non è che ci dice una data che è domani o dopo domani ma ci dice che ci sarà questo giovedì alle 20 e 30 questo è quello che dice la beata vergine maria poi sta a noi ovviamente con il con le preghiere la santa messa eccetera eccetera a far sì che tutto ciò si renda meno grave perché guardate quando ci sarà avvertimento tutti noi soffriremo chi più chi meno a seconda delle grazie di dio con cui uno sta fratelli e sorelle quindi per questo che bisogna pregare andare alla santa messa confessarsi altra cosa fondamentale e fare la carità secondo le intenzioni del signore gesù cristo senza dire niente a nessuno sia spiritualmente parlando che anche da un punto di vista materiale preghiamo per la santa chiesa cattolica e per il mondo intero dio vi benedica sia lodato nostro signore gesù cristo sia fatta la sua santa e divina volontà lode gloria a cristo nostro signore se potete se volete diffondete questi messaggi che arrivano dal cielo come ci dice la vergine maria di diffondere a tutti è come la parola di dio ovviamente importantissima se potete se volete commentate mettete like su questo piccolo canale iscrivetevi a questo piccolo canale che pietro paolo trinità e pietro paolo trinità 2 l'altro canale in vista di censure ai nostri cari fratelli e sorelle dei due siti con noi diciamo due diciamo canali gemellati che è soldati di maria e ovviamente ermanno radice quindi se potete se volete ovviamente iscrivetevi e diffondate anche i loro video dio vi benedica sia lodato gesù cristo santa giornata a tutti voi